La parola al sottosegretario Graziano Del Rio, ringraziandolo infinitamente per la sua presenza oggi e per il valore che ha voluto dare a questo seminario di studio. Grazie Ministro, saluto tutti i rappresentanti delle regioni, i presidenti che sono qua, grazie per questa occasione di riflessione che tu ci offri oggi. Sono qui in versione di gestore, di ministro della coesione territoriale, quindi sono qui ospite di questa riflessione che le regioni attraverso il ministero hanno voluto promuovere. Ho già detto alla presentazione del rapporto Svimez alcune cose, il professor Giannola ci ha, come dire, anche quest'anno dato l'occasione per riflettere in maniera più scientifica su tutta la situazione del mezzogiorno. e ho già detto altre volte quale sia la strategia che io vedo per il sud e la rivadisco qua. è una strategia molto semplice, fatta di due pilastri fondamentali, uno di piani strategici, di piani strategici, non moltiplicati, ma piani strategici vuol dire piani che sono in grado di scegliere le priorità di sviluppo e poi di applicarle alle varie regioni. Quindi questa è una ricetta che non vale per il mezzogiorno, vale per il paese in generale, ma per il mezzogiorno vale molto di più. Quindi la capacità di regionare in termini strategici, quindi per il mezzogiorno è chiaro, c'è il tema della logistica, della grande piattaforma logistica verso il Mediterraneo, come ha detto efficacemente il professor Giannola purtroppo non l'ha sentito, ma so cosa pensa. E come ha detto Mario Oliverio prima, quindi un tema di logistica e di piano generale di cui l'Italia è carente, l'Italia ha una carenza enorme di logistica, di un piano della logistica, nel mezzogiorno questa carenza diventa ancora più importante, dentro a questa carenza vi è un'ulteriore necessità di fare una scelta e la scelta che io vedo molto chiara che il governo deve fare con più forza e con più chiarezza nei prossimi mesi è quella di puntare moltissimo sulla logistica portuale, sulla logistica ferroviaria, sul trasporto ferroviario, quindi e sulla rete di ferro nelle grandi aree metropolitane. Questo è il, cioè io vi dico poche cose qui, dopo è chiaro che vi sembrerà un atteggiamento da nordista questo, da padano, essenziale, ma insomma portate pazienza. Allora, sull'area metropolitane, e sull'area metropolitane l'investimento, compresi 300 milioni messi ieri dalla Cassa dei Posti dei Prestiti, l'investimento per le aree metropolitane, il completamento metropolitane di Napoli, Palermo, Catania, Bari, abbiamo una serie di progetti. Sulle direttrici ferroviarie secondo me invece dobbiamo mettere più testa e più forza in alcuni progetti, certamente si velocizzerà l'Adriatica con le nuove vetture nel 2015, certamente è in corso di potenzialmente e completamento la battipaglia Reggio Calabria, in maniera da rendergli una velocità, sono state fatte alcune gallerie Coreco, eccetera, che sono state completate. E' certamente in completamento il raddoppio della Bari-Taranto e quindi alcune linee ferroviarie, la Napoli-Bari come sapete è stato oggetto dello sblocco Italia, ma hanno tempi queste opere molto rilevanti e quindi è inutile che... Cioè, adesso poi parliamoci chiaro, cioè non è che tutte le volte che facciamo un convegno stiamo qui a lamentarci che a Napoli-Bari non è pronta. A Napoli-Bari finirà, lo sapete, tra dieci anni, mettiamocelo in testa, se va bene, quindici anni, mettiamocelo in testa e guardiamocelo nel pari degli occhi e facciamo come i grandi paesi europei che dicono ci vogliono dieci anni a fare quest'opera, facciamo in modo che non ce ne vogliono trentacinque, facciamo in modo che non costino il triplo di quello che abbiamo previsto, ma sappiamo che quell'opera lì necessita di questi tempi, quindi basta, punto a capo, punto a capo. Quindi, piani strategici generali, quello della logistica, quello sul... Io ho fatto un gioco per il Presidente del Consiglio l'altro giorno, siccome sapete che lui ama, come dire, la sintesi, ho fatto un gioco, gli ho detto keep calm, Tienti calmo, dentro la parola calmo, calmo in inglese, o calmo, non so come si dice calmo, forse, Francesco è più bravo di me in inglese, dentro questa parola c'è cultura, cultura e turismo ovviamente, c'è agricoltura, l'agricoltura noi abbiamo dei dati eccezionali sull'agricoltura nel meridione, quindi abbiamo dati di forza enorme rispetto a tanti altri paesi europei, molto forte, c'è la logistica e c'è la manifattura di qualità, fa la parola calma, no? In inglese. Quindi, questi settori sono settori strategici del nostro mezzogiorno, puntiamo sulle forze, non c'è nessuno che debba pensare di non fare scelte e puntare sugli elementi di eccellenza. Noi abbiamo diversi elementi di eccellenza, sono ottimamente riassunti in diversi documenti, in diversi libri, in diverse ricerche e quindi abbiamo bisogno di applicare e di rafforzare le filiere esistenti. Nella manifattura di qualità abbiamo un'ottima filiera in campagna sull'aerospazio, sappiamo queste cose, no? Inutile che io le stia a raccontare, non è il mio compito oggi stare a raccontare. Questo tema di avere una programmazione per aree strategiche, riguarda quindi, nella strategia di specializzazione intelligente nazionale, riguarda quindi cinque aree principali, le stiamo definendo con la strategia nazionale, l'industria intelligente, il tema dell'agenda digitale delle smart cities, il tema della qualità della vita e della salute, cioè l'investimento nel sanitario, nel biotech e così via, il patrimonio culturale, come ho detto, e poi appunto alcune manifatture speciali come l'aerospazio, particolarmente su cui l'Italia è particolarmente competitiva. Allora, noi abbiamo un quadro quindi strategico, ormai definito nel corso del metà 2015, noi avremo i piani strategici della specializzazione intelligente, avremo i settori, i piani settoriali, speriamo, con dei cronoprogrammi e così via. Cosa c'entra questo? C'entra perché questa è una delle nostre principali debolezze. Noi non abbiamo un piano, non l'abbiamo avuto fino a poche settimane fa, adesso in consultazione l'abbiamo chiuso, non avevamo un vero piano di agenda digitale. Per me un piano vuol dire che tutti sanno cosa devono fare e in quali tempi, non vuol dire che diciamo, ah, dobbiamo fare la banda larga, vuol dire che sappiamo quanti investimenti farà il privato, perché lo mette nei suoi piani di investimento, e quanti investimenti farà il pubblico, perché lo mette nei suoi piani di investimento. Quindi, noi abbiamo adesso il piano della strategia intelligente, quindi è il piano dell'agenda digitale, il piano dell'efficientamento energetico, perché anche questo è un elemento molto importante. Procediamo quindi producendo poi di settore in settore i cronoprogrammi e le cose. Quindi il primo tema è che l'Italia deve aiutarsi a pensare in grande. Peraltro, lo sottolineo sempre, questa è una delle condizionalità che l'Europa ci chiede per i fondi europei, cioè deve abituarsi a pensare in maniera strategica. Primo punto, siamo avanti? No, dobbiamo recuperare molto terreno, ma comunque ci stiamo lavorando. E bisogna che possibilmente il PON ricerca non sia incoerente con la strategia di specializzazione intelligente, cioè che non faccia altri piani, altri programmi, sovrapponga altre cabine di regia, perché l'altro elemento di grande debolezza nel nostro Paese è che noi riproduciamo livelli di governance come se fossero noccioline. Io sto analizzando, perché abbiamo il decreto su Taranto il 24, al mattino speriamo, e quindi abbiamo il decreto su Taranto. Allora, mi sono immerso nelle cose su Taranto. Allora, è incredibile, abbiamo 4-5 livelli di coordinamento. Su Pompei avevamo e abbiamo 4-5 livelli addirittura di semi-commissariamento. Cioè non è pensabile avere 4-5 cabine di regia, 4-5 punti di sintesi, perché non si fa mai la sintesi, non si capisce mai. Noi abbiamo messo un po' di tempo per ricostruire il quadro complessivo, per esempio del porto di Taranto, della logistica, delle opere, delle questioni, e come, e i collegamenti. Cioè abbiamo, per ricostruire tutti i dati, e metterli tutti insieme, e fare un piano integrato territoriale, perché questo è quello di cui abbiamo bisogno, è molto complicato. Siamo abituati a moltiplicare e a frazionare. Quindi questo è un elemento su cui il nostro Paese deve correggersi, e deve avere anche, per un momento, buttare il cuore oltre l'ostacolo. Lo so che non è facile. Per esempio per le regioni non è stato facile accettare che l'FSC non venga più programmato come prima, ma venga programmato in maniera unitaria, con una cabina di regia che stabilisce le priorità. Però io ho molto apprezzato il fatto che, siccome il Governo ha voluto dare all'FSC questa caratteristica sui programmi strategici, quindi avremo 44 miliardi a disposizione per i programmi strategici nei prossimi anni, oltre ai fondi europei, ho molto apprezzato che le regioni abbiano fatto questo salto di qualità, e anche i ministeri un pochino, anche se continuano a resistere. Perché il fatto di dire, diamo unitarietà, se c'è bisogno di mettere molti soldi subito per impedire che vadano via le aziende di logistica dal porto di Gioia Tauro o le aziende di logistica dal porto di Taranto, e ci sono i progetti pronti, perché vi do una notizia, noi siamo specializzati nel fare le liste dei progetti, ma quando andiamo sotto la lista, sono come quelle delibere che una volta, ho scoperto alcune amministrazioni comunali, scusate, quando facevo il Presidente del Lanci, che facevano le delibere e portavano le delibere con la cartellina e il titolo e dentro non c'era la delibera. Abbiamo approvato, non è molto corretto, noi siamo specialisti nei titoli, stamattina io ho fatto una riunione, stamattina presto, sul piano Juncker, sulla task force che decide i progetti paese da consegnare alla Bay e da consegnare al piano Juncker. Ci sono progetti importanti anche per il Sud, che noi stiamo mettendo in piedi, sia pubblici che privati, e abbiamo bisogno, come dire, che questi progetti siano progetti veri, perché arriva un momento tra sei mesi in cui la Bay mi dice è bancabile, è pronto, sì o no? Questo è il punto, è pronto, sì o no? Perché se è pronto lo finanzio, se non è pronto non lo finanzio. Quindi abbiamo bisogno anche di progredire su questa progettazione, e non raccontarci delle storie, insomma, perché quando poi si va a vedere sotto sotto, quando io dico bene, i soldi ci sono, fammi vedere il progetto, otto volte su dieci non ho il progetto. Perché io adesso faccio così quando uno mi dice ah, ma mi devi finanziare questo, bene, fammi vedere il progetto, non c'è mai, non c'è mai il progetto, quasi mai. Quindi abbiamo bisogno di essere quindi strategie e un po' di manovalanza. Non so se sapete cos'è il manovale. Il manovale, mio padre faceva il muratore, quindi io so bene cos'è un manovale. Quando era bambino mi portava nei cantieri e poi è diventato un piccolo imprenditore, quindi ha fatto la... e mi insegnava cos'è il manovale. Il manovale è a disposizione del muratore. Il muratore è intelligente, è bravo, è quello che ha pensato come fare il muro dritto, eccetera, eccetera. Il manovale deve portare la calce e deve portare i mattoni e deve fare in modo che non si fermi il muratore. Cioè deve essere uno che è a disposizione e che fa delle cose semplici ma le fa e le fa nei tempi giusti perché se io devo tirar sul muro e tu mi lasci due ore senza il mattone io divento improduttivo. Io divento improduttivo. Il professor Giannola fa il suo mestiere, fa le analisi, fa le ricerche, le università del sud devono fare il loro mestiere mettendo a disposizione l'intelligenza, eccetera, eccetera. ognuno deve fare un pezzo del suo mestiere. Possibilmente evitiamo ognuno di fare i mestieri degli altri, possibilmente. Quindi questo è un elemento molto importante perché tutti insegnano agli altri a fare il loro mestiere. Invece sarebbe importante che ognuno facesse il suo. Abbiamo bisogno anche di gente che si metta a farle le cose. Sul port, sul Taranto ci sono 800 milioni di euro stanziati, va bene? 800 milioni di euro stanziati, realizzati meno del 10% in questo momento. Non vi sto a raccontare. Quindi cerchiamo di farle le cose quando ci sono i soldi. Perché i soldi ci sono su molte questioni. Abbiamo bisogno di un gruppo di manovali, cioè di ragazzi giovani che si rimboccano le maniche e dicono bene, c'è da fare la banchina del molo, c'è da fare il progetto dell'ampliamento del porto, eccetera, eccetera. E c'è da farlo ad Amsterdam fanno il dragaggio in tre mesi. Perché mi dici che io lo faccio in tre anni? Ma usciamo da questa anche minorità culturale. Se loro lo fanno in tre mesi proviamo a farlo noi in 12 mesi, viva Dio, o no? Perché ci vuole anche qualcuno che le cose le faccia fisicamente, che si assuma la responsabilità di farle quando ci sono le risorse. E quindi io insisto moltissimo per esempio perché non si perdono i fondi europei, non perché pensi che abbiamo programmato bene il settennato precedente nelle regioni e nei ministeri. Francamente penso che potevamo fare di meglio. Però è anche una questione di affidabilità e di serietà quando andiamo a discutere a Bruxelles il fatto che a dicembre non perdiamo 4 o 5 miliardi di fondi europei, ma magari ne perdiamo solamente 4 o 500 milioni. Capisco che è fastidioso sedersi intorno a un tavolo e dire mancano due mesi adesso lavori giorno e notte perché altrimenti perdiamo i soldi. Capisco che è fastidioso, però sono quelle operazioni da manovale che servono quando si può fare. E siccome lo stiamo facendo perché il po' in attrattori culturali, il po' in energia, altri progetti di tipo nazionale rischiavano di perdere tutti i soldi, non in parte, e la Sicilia e la Calabria e la Campania hanno rischiato e stanno rischiando ancora, però speriamo di avere risolto molti problemi, allora ci vuole anche una serie di persone che fanno il loro mestiere con disciplina, come uso spesso questa parola, mi scusami, allora sentirete dire molte volte, me l'avete sentito dire molte volte, con disciplina e applicazione sapendo che i soldi pubblici sono dedicati alle famiglie e alle imprese e che non c'entra niente la polemica nord, sud, eccetera, eccetera, ma che i soldi pubblici servono alle famiglie e alle imprese del territorio in cui sono destinati e chi non li spende, chi non li usa, chi non li programma, chi non progetta, ha delle responsabilità politiche enormi e non c'è nessuno che possa sostituire la parola responsabilità, ognuno si assuma le sue. Nel momento in cui una regione ha a disposizione dei soldi e non li spende, non li usa, ha una grandissima responsabilità. Io non credo, io non sono d'accordo, dottoressa, capisco molto bene quello che lei ha detto e quindi io apprezzo molto lo sforzo della regione Lazio, non sono d'accordo che i centri per l'impiego funzionino, glielo dico con molta chiaccia, sono abituato a dire le cose come le penso e in Italia i centri per l'impiego non funzionano, in Italia il sistema di inserimento attivo delle politiche attive del lavoro non funziona, non funziona, avrete fatto grandi passi avanti, voi ne sono sicuro. hanno creato un modello pubblico o privato, questo le voglio dire. No, no, ma però le cose funzionavano, ora con garanzie giovani si stanno funzionando. Va bene, allora guardi, poi discuteremo con calma, garanzie giovani, io non sono soddisfatto, lei è soddisfatta, mi fa piacere, io no, ma poi vedremo i risultati perché alla fine sono le cose che contano, sono il numero di ragazzi che vengono avviati al lavoro, no? Quindi l'Italia ha dei numeri vergognosi su questo argomento, quindi guardiamoci nelle palle degli occhi e diciamo per esempio che l'FSE con 40.000 progetti, l'FSE contiene 40.000 progetti, 40.000 progetti, mi dovete spiegare come possiamo fare una politica sostenibile di inclusione lavorativa. Cioè, io penso che sia complicato con 40.000 progetti trovare qual è il progetto giusto, non so, forse, però ho delle comprensioni limitate, quindi, penso che forse potremmo metterci a sedere e provare a semplificare i percorsi, fare delle cose unitarie. A me risulta, per esempio, che le regioni moltiplicano i fondi di garanzia. Ci sono quanti... Non ce l'ho mica con lei, Io sono molto amico del Presidente Zingaretti, sta facendo un lavoro straordinario, lo dico da ex amministratore, perché vedo chi amministra e chi non amministra, mi sembra di poterlo giudicare abbastanza bene. Sta facendo un lavoro straordinario, Nicola, quindi in Lazio l'altro giorno un professore universitario mi ha fatto vedere ci sono, credo, 35 fondi di garanzia, alcuni gestiscono 6 milioni. Quindi, cioè, attenzione, perché guardiamo anche le cose, proviamo a farle funzionare in maniera molto più semplificata, molto più, appunto, da manovali, perché abbiamo bisogno anche di questo, di non... Allora, io però sono molto ottimista e ho concluso, scusami, Maria Carmela, sono molto ottimista perché vedo che adesso, al di là di tutto, mi sembra che le regioni stiano davvero facendo grandi passi in avanti. Io sono molto ottimista. Mi sembra che ci sia molta volontà di fare un cambiamento di prospettiva, che ci sia molta volontà di ragionare in termini integrati. Abbiamo avuto, credo, un esempio di ottima collaborazione istituzionale sul piano dell'agenda digitale, dove abbiamo messo insieme le cose. Credo che possiamo fare un ottimo lavoro su Garanzia Giovani tenendoci in contatto nei prossimi mesi in maniera da far funzionare le cose che non hanno funzionato. Però abbiamo appunto bisogno di avere delle strategie definite, con dei piani definiti e una cornice che tutti noi accettiamo come una cornice che ci chiama appunto a responsabilità e che ci chiama a una visione di medio e lungo periodo. Questo è il punto. E' il punto. Sono ottimista anche perché abbiamo le risorse. L'ho detto già e lo continuo a dire, uso questa metafora ancora anche oggi, la Germania ha portato con sé la Germania dell'Est in investimenti importantissimi, in vent'anni hanno moltiplicato del 200% il PIL e migliorato la produttività del 70%. Noi credo che siamo molto più bravi di loro. Io sono convinto, lo dico, visto che oggi il Presidente del Consiglio è là a litigare al Consiglio Europeo. Noi io credo che noi siamo molto più bravi della Germania, abbiamo molte più qualità e capacità di vedere lungo, abbiamo molto più talento, abbiamo ottime scuole che devono funzionare come diceva perfettamente il Presidente PIL la competitività. La competitività si fa sul capitale umano quindi è chiaro che è lì che vinceremo o perderemo una scommessa ma sono molto ottimista perché vedo che ci sono risorse umane e risorse economiche e risorse sociali e risorse di società civile vive nel Sud vive nel Sud come nel resto del Paese quindi noi siamo molto ottimisti sul futuro di questo Paese a patto che come sempre ci diciamo la verità perché è solo la verità che ci permette di andare avanti quindi grazie grazie del vostro contributo Grazie Sattosegretario per la bella lezione che ci hai dato e per il fatto che si dimostra che questo è un tavolo di lavoro da cui ripartire con franchezza grazie grazie